si crea, a me è quello che mi è sempre piaciuto creare a me è sempre piaciuto creare l'arborario perché è un piatto tipico romano che va fatto in una certa maniera e poi la sanno fare la cosa che ti posso dire è che lavoro e sfrutto molto l'amico della pasta sfruttiamo la natura e la pasta la pasta la pasta la pasta la pasta la pasta